La Regione ha già le idee molto chiare sulla riorganizzazione sanitaria in provincia di Teramo, si punta alla realizzazione di un ospedale unico, dove verrà realizzato, questo non è ancora un aspetto ben definito, se a Mosciano in un'area baricentrica rispetto al territorio o a Piano Daccio come si è vociferato più recentemente. Ma una cosa appare certa, le speranze che Giulianova possa avere un nuovo ospedale di primo livello sono ridotte praticamente al lumicino. A spiegare come stanno realmente le cose e quali siano le intenzioni della Regione ci ha pensato l'assessore Silvio Paolucci che ha partecipato in mattinata alla conferenza della Asla di Teramo per illustrare il piano delle nuove assunzioni di personale OS. Paolucci ha anche lasciato intendere che si andrà verso un unico pronto soccorso. Ma io credo che si deve fare intanto un ospedale unico, dopodiché come ho già detto le strutture che residueranno da questa scelta, cioè non verranno chiuse, perché noi abbiamo, grazie alla delibera 129, vediamola insieme, centinaia di prestazioni e quindi di posti letto extra ospedalieri tra riabilitazione e residenzialità da dare possibilmente al pubblico, perché se non ci muoviamo noi ovviamente poi lo farà il mercato. Noi non possiamo parlare di una rete emergenza urgenza con gli stereotipi di 50 anni fa, allora abbiamo investito molto per esempio sui 118, i 118 di oggi non sono solo medicalizzati, ma hanno delle attrezzature dentro le vetture che sono totalmente diverse da quelle di 30 a 40 anni fa, cioè la rete dell'emergenza urgenza è ben altra cosa rispetto a quella che insomma, sui quali si è fatto il nome e il cognome 40 anni fa nella sanità. Insomma la battaglia del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro che punta ad avere un nuovo ospedale di primo livello, sottolineando l'importanza dell'area vasta che comprende circa 150 mila abitanti che triplicano in estate con l'arrivo dei turisti, è destinata a spegnersi in fretta. Tuttavia c'è uno spiraglio che riguarda il potenziamento della sanità lungo la fascia costiera, migliorando l'esistente, ovvero l'attuale struttura ospedaliera giuliese, lo ha precisato l'assessore Paolucci, ma serve ora l'impegno formale dell'organo regionale.